Fra il 22 e il 25 maggio circa 400 milioni di cittadini provenienti dai 28 paesi membri dell'Unione Europea potranno scegliere i candidati che li rappresenteranno al Parlamento Europeo per i prossimi 5 anni. Ogni persona avente diritto voterà per il suo candidato e il suo partito. I nostri rappresentanti in Europa saranno chiamati a esprimersi su temi di grande importanza, comprese le sorti della ricerca scientifica, determinando allocazione delle risorse, investimenti, prospettive. L'innovazione è, almeno nelle intenzioni, il cardine della strategia europea per favorire la crescita e creare occupazione. Il programma Horizon 2020 richiede ai paesi dell'Unione di investire il 3% del prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo, 1% da finanziamenti pubblici e 2% da investimenti privati. L'obiettivo finale è creare qualcosa come 3,7 milioni di posti di lavoro e a realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Ma se lo spazio europeo della ricerca è stato annunciato come una priorità politica dall'istituzione europea, nonché esplicitamente inserito nel Trattato di Lisbona, certo è ancora ben lontano dalla sua realizzazione pratica. Occorre superare tutta una serie di diffidenze, di localismi, di difesa di tradizioni, che rappresentano un forte bias allo sviluppo economico dell'Unione. La frammentazione nella politica della ricerca mina la competitività europea nel confronto con nuovi attori mondiali che, come singoli stati, risultano meglio organizzati. Il rinnovo delle istituzioni europee è quindi un'occasione per dare la spinta allo spazio europeo della ricerca e anche la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che vede l'Italia protagonista per il prossimo semestre, potrebbe far la differenza. Nell'ottobre 2013, gli europarlamentari Amalia Sartori e Luigi Berlinguer hanno presentato a Bruxelles un manifesto per la ricerca, a Maastricht for Research. Un appello simile è stato rilanciato in Italia dal giornalista Pietro Greco e ha visto fra i suoi firmatari, tra gli altri, anche i presidenti INAF Bignami e INFN Ferroni. Qualcosa si muove, ma la partita è ancora tutta da giocare.